Edoardo Camaschella, Vag 2023, terza edizione di una rassegna di vini di montagna che sta prendendo non solo piede in Valle d'Aosta, ma comincia ad essere seguita e apprezzata anche fuori confine. Grazie, intanto ti ringrazio. La Vag è un piccolo sogno, un progetto che nasce nel 2019. Finalmente quest'anno siamo riusciti a portare la manifestazione a Valtournansch nel borgo di Creta, che poi è il borgo in cui ho vissuto io per tanti anni. L'idea è quella di avere dei produttori piccoli che lavorino il meno possibile in vigna e in cantina. Cosa vuol dire? Il lavoro c'è sempre, nella maniera più assoluta, ma nella maniera più corretta. Diciamo così. Ci sono diverse realtà, piccole, ci sono dei racconti diversi che vengono fatti nei vari tavoli di degustazione. Ovviamente c'è sicuramente un borgo di montagna inusuale, che è quello di Creta, che tra l'altro è anomalo rispetto alla salita di Valtournansch, che è in piano e quindi è molto bello. Quest'anno piemontesi, ovviamente valdostani, è quello che si nota, e lo dico in questo caso da degustatore, mi posso permettere di entrare nell'intervista non soltanto facendo le domande, ma facendo anche un commento. Devo dire, l'eccellenza si nota, si sente in ogni gazebo, in ogni banco. Il movimento di questo vino sta crescendo esponenzialmente. Sì, me lo auguro, me lo auguro. Sono delle realtà piccole che hanno, come dici te, hanno sempre più interesse. Da parte mia, come amatore, amatore totale, divino, cerco sempre di portare veramente delle realtà interessanti, delle realtà che possano, che possano, da un certo punto di vista, stupire davvero chi riesce, chi ha voglia di partecipare alla manifestazione. Sì, sì.